Noi siamo certi che 10 persone in più o 10 persone in meno al movimento non fanno differenza perché la forza dei cittadini che sappiamo dietro ci dà la spinta e la forza per poter portare avanti tutte le nostre battaglie ed essere incisivi all'interno del Parlamento ma in tutto il Paese.